Il 23, 24 e 25 maggio a Pesaro si parlerà di terza età e di patologia oncologica. Nella cornice dell'Hotel Cruis oggi apertura dei lavori del VI Congresso Nazionale di Oncologia Geriatrica con il titolo Una necessità per il terzo millennio. Il perché ce lo spiega uno dei presidenti e organizzatori dell'evento scientifico tra i più importanti a livello italiano con relatori anche da oltreoceano, il dottor Rodolfo Mattioli. L'attesa di vita sta sempre più aumentando, siamo in una regione che è la seconda più longeva d'Italia, in una provincia che è tra le prime cinque più longevi d'Italia. Una bambina quando nasce ha un'attesa di vita di circa 86 anni, un bambino di circa 81,5 anni. Questa attesa di vita sta aumentando negli ultimi anni, è cresciuta, è cresciuta di circa 2-3 anni rispetto a 10 anni fa. Attualmente l'attesa di vita è di un 80enne, di un 75enne e di altri 5-7-8 anni, per cui sembra che il paziente o un cittadino non debba più morire. Purtroppo non sarà così, però questa attesa di vita andrà sempre più aumentando. Dall'altra parte, una metà di tutti i tumori, circa 180.000 nuove casi all'anno, incidono su una popolazione oltre a 70enne. Quindi c'è questo problema da tener conto. Ma in me ci sono anche due considerazioni che non giocano a nostro favore. Un paziente sopra i 70 anni ha un rischio di morire, ha una prognosi peggiore di un paziente più giovane. La sopravvivenza a 5 anni degli ultra settantenni si attesta al 48%. I pazienti più giovani hanno sopravvivenza oltre il 60%. Quindi c'è un notevole gap tra queste due fasce d'età. E altra considerazione che non gioca a nostro favore, il fatto che la possibilità di guarire per i pazienti italiani è inferiore a quella dei pazienti europei. Questo da cosa dipende? Dipende probabilmente dalla carenza di screening. In Italia gli screening fermano a 70 anni. C'è un grossa interesse in questo settore per far sì che lo screening possa durare fino a 75 anni. La mancanza per i pazienti anziani di studi dedicati, di sperimentazioni dedicati e quindi un minore accesso ai farmaci innovativi. E chiaramente non dimentichiamo la prevenzione anche su un paziente anziano nel correggere quegli stili di vita che non favoriscono il suo stato di salute. Ecco, lei ha coordinato anche a livello nazionale le linee guida. Che cosa avete messo dentro questo importante supporto per tutta la categoria dei medici? Sì, da 4-5 anni ho avuto l'onore e nonere di coordinare le linee guida dell'IOM sui tumori dell'anziano. Il tumore dell'anziano è un settore ancora di nicchia. Il paziente anziano è diverso uno dall'altro. Per cui, qual è il nostro messaggio? Ogni paziente deve essere valutato attentamente. Se è un paziente fit, un paziente sano, di cui non ci aspettiamo la sua età per l'aspetto e per le condizioni in cui ha, può essere trattato come un paziente giovane. Abbiamo una varietà di pazienti vulnerabili, cioè pazienti che hanno varie malattie, varie comorbidità, altri acciacchi, diciamo così. E poi abbiamo i pazienti fragili, questi che vanno identificati perché forse un trattamento oncologico potrebbe far più danno che beneficio.